Partiamo così, ben ritrovato Luca dopo tanti anni in maglia biancazzurra, è stata un'estate lunga ma alla fine sei qui. Sì, sì, è stata lunga sofferta però alla fine sono tornato e sono contento di essere tornato. Quando hai capito che Pescara si poteva veramente fare? Chiaramente dopo quattro anni in B mi aspettavo di restarci, quindi dal momento in cui ho capito che non c'erano possibilità ho detto torniamo a pescare e proviamo a fare qualcosa di importante. Quest'estate chiaramente non ti sei allenato con la squadra quindi hai fatto un po' fatica nelle prime settimane a ritrovare il ritmo. In conferenza l'allenatore ha fatto capire chiaramente che domani potrebbe toccare a te. Quanto è pronto Luca Palmiero per l'esordio del primo minuto? Sono pronto e non vedo l'ora di scendere in campo. È stata un'estate sofferta soprattutto per quello perché non ho avuto la possibilità di lavorare in ritiro e di lavorare con la squadra. Però sono due settimane in cui ho lavorato 20 giorni e non vedo l'ora di scendere in campo. Se dovesse essere domani o quando sarà io sono pronto e sono a disposizione. Faccio due domande difficilissime, scherzo ovviamente, però riportano alla mente i bei ricordi. Quante volte ha fatto il campionato di Serie C Palmiero? Questa è la quarta. E lo ha già vinto una volta? Dove l'ha vinto? A Cosenza. Dove si è fatta quella partita? A Pescara.